Il decreto Calabria, che il Governo ha varato in tema di sanità, che di fatto riduce ancora di più i poteri della Regione, oltre al commissariamento già in atto, non convince, anzi sarà impugnato davanti alla Corte Costituzionale. A dirlo è il Presidente della Regione Calabria, Mario Liverio. Dal resto, una prima decisione la consulta la darà a luglio e riguarda i due supercommissari nominati dal Consiglio dei Ministri. Ora arriva anche questo decreto che toglie la possibilità al Governatore di nominare i direttori generali e impone di passare dalla Consip per gli acquisti. Secondo Oliverio, in questo modo si rafforza un'esperienza fallimentare. Il Ministro, secondo il Governatore, sarebbe stata informata male sul fatto che negli ultimi dieci anni la gestione della sanità sia stata in capa alla Regione. Visto che i commissariamenti c'erano già e non hanno funzionato, secondo Oliverio, non bisogna rafforzarli ma ridare il controllo della situazione all'amministrazione locale. Un dato che lo stesso Presidente della Regione ha citato è quello dei costi relativi ai calabresi che vanno a curarsi fuori dai confini regionali. Nel 2010, prima dei commissariamenti, la cifra era pari a 200 milioni, mentre adesso è salita a 320.